Se piove sul bagnato, immaginarsi quando è secco. Al di là delle battute, l'acquazione che ha paralizzato 24 ore fa il Friuli Zontino porta alla ribalta la reale situazione in cui si trovano i fossati e i canali scolmatori. Gli stessi, grazie alla scarsa, se non zero, manutenzione, la crescita di erbacce e il deposito di materiale di riporto, vanno al collasso immediato quando Giovepluvio decide di riversare enormi quantitativi d'acqua in pochi minuti. La stessa, una volta raggiunta a terra, inizia il suo percorso. A prossimità del canale o fossato, trovando la via impedita, questa da qualche parte deve andare. In pochi istanti le sedi stradali e i campi attivi si trasformano in piste adatte a motoscafi, barche e in certi casi da classico ambiente veneziano, tipico da giro in gondola. Però chi dovrebbe garantire la messa in sicurezza alla pulizia si appella all'eccezionalità dell'evento meteorologico per giustificare il mancato intervento preliminare. Se poi ci si mettono gli ambientalisti con le loro teorie naturali, allora capisci il perché del problema. In questo anomalo Stato, l'Italia, tutto è possibile e niente impossibile. Morale?